Si attende un nuovo controllo alla terapia intensiva neonatale dell'ospedale Umberto I di Nocere Inferiore dopo quello saltato lo scorso 24 gennaio. La prima ispezione dei rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza andò a vuoto per la concomitanza di alcuni lavori di riqualificazione della TIN ma nei prossimi giorni il sopralluogo dei sindacati dovrebbe ripetersi. La situazione dopo le tensioni delle scorse settimane sembra essere più sotto controllo. Gli infermieri stanno gestendo alla meglio il sovraffollamento per il picco bronchiolite e anche i turni al nido nonostante le risorse umane siano risicate. Probabilmente la minaccia di trasferimento di massa presentata da 25 infermieri ha messo sul chi va là la dirigenza sanitaria di presidio e quella aziendale. Tuttavia non si può abbassare la guardia. I continui ricoveri di bambini potrebbero far precipitare le cose da un momento all'altro. Il problema alla TIN è solo uno dei nervi scoperti dell'ospedale Umberto I dove si sta ancora procedendo all'edrissima dei luoghi a causa dell'incendio sviluppato sul piano terra quasi una settimana fa. In fumo, forse per una cicca di sigaretta non spenta, un intercapedine tra i reparti di rianimazione, radiologia e il poliambulatorio. La prossima settimana intanto il consiglio comunale di Nocera Inferiore si riunirà in seduta monotematica per continuare la battaglia per il riconoscimento del DEA di secondo livello. L'appuntamento è per le ore 16 di martedì 12 febbraio, un'azione che vedrà accanto a Nocera Inferiore anche le municipalità di Pagano c'era superiore.